La popolosa frazione di Paganica attende ancora il suo campo da calcio. Se solo poco tempo fa, striscia la notizia con Jimmy Ghione, aveva consegnato al primo cittadino Massimo Cialente il tapiro d'oro per questa questione, la scuola del Moro Paganica risolleva il problema. Dopo tre anni, scrivono, non sono stati fatti neanche gli espropri. Qual è la verità? chiedono al sindaco e all'assessore allo sport. A rispondere è direttamente il sindaco Massimo Cialente. Non ci sono problemi, afferma, su 250 mila euro raccolti dalle società di Lega Pro per realizzare il campo a Paganica. Nel bilancio comunale, ricorda il sindaco, ci sono questi 250 mila euro e anche i 220 mila euro della Monte dei Paschi di Siena. Il progetto esecutivo, dice Cialente, è pronto da tempo, ma vi è il problema dell'espropo del terreno, poiché la proprietaria, svela il sindaco, ancora non accetta l'offerta del comune dell'Aquila. Ad ogni modo, dice il sindaco, l'iter partirà subito e lo abbiamo già comunicato alla proprietaria del terreno. Solo pochi giorni prima delle elezioni dei consigli territoriali, lo ricordiamo a Paganica, era circolato un volantino che parlava proprio della mancata realizzazione, tra le altre cose, del campo di calcio di Paganica. Certo è che, come al solito, si sono persi anni tra intoppi e burocrazia e spesso, in realtà, ci si riempie solo la bocca a parlare di rinascita che dovrebbe passare anche e soprattutto attraverso lo sport.